ecco la notte quattro io e daniele in camera mezzanotte che ora è quasi mezzanotte quasi mezzanotte senti di mezzanotte 20 adesso senti di me devo andare a letto un sonno che vada si adesso andiamo allora per tutto parigi non so se ce la faccio fino almeno mattina bene bene allora questo è tutto quello che abbiamo visto stasera bel giro di prelustazione per vedere se tutto a l'armadio qua è aperto vediamo la porta si arriva la porta è la porta chiusa porta in bagno non c'è nessuna in bagno non c'è nessuna vero cazzo daniele troppo dorme già daniele vabbè ragazzi io vi saluto torniamo in camera io spengo la luce buonanotte 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 buonanotte